La ricchezza dei cristiani è anche attuale per il possesso di eminentissimi beni. La nostra ricchezza non è solo nel diritto alla futura eredità, abbiamo qui pure il possesso di molti eminentissimi beni. Chi dirà infatti che non possiede una grande ricchezza, chi possiede una cosa di cui non si può trovare il prezzo, al cui confronto non può stare l'oro e l'argento, e che sorpassa in valore quante sono mai cose eccelse in pregio ad ammirazione degli uomini? È questa la sapienza, che peraltro, e sì, propria di tutti quelli che in questo stato hanno ricevuto lo spirito e l'infusione dei suoi doni, o l'unzione dello stesso spirito, secondo quello che dice San Giovanni, unctio docet vos de omnibus. Che dirò poi della carità diffusa nei nostri cuori? L'angelo dell'Apocalisse, parlando di questa, quello di Laodicea, che ne era affatto povero, benché assai abbondante di ricchezze temporali, così si esprime. Tu dici, io sono ricco e arricchito, non ho bisogno d'alcuno, e non sai che tu sei misero e miserabile, povero e cieco e nudo. Io ti consiglio a comperarti da me l'oro ignito e probato, con che tu arricchisca. E in un altro luogo, se l'uomo darà tutte le sostanze della sua casa per la sua direzione, sarà quasi un avvilire il suo valore. Tanto è inestimabile. Ben si può dunque dire con l'Apostolo, a tutti quanti sono i fedeli della nuova legge in Cristo. Voi già in tutte le cose siete fatti ricchi in Lui, sicché non è che a voi manchi veruna grazia aspettando la rivelazione del Signor nostro Gesù Cristo.